L'esercizio numero 23. A quale elemento appartengono gli isotopi? Che possiedono i seguenti numeri atomici e di massa. Allora, per identificare l'elemento è sufficiente il numero atomico, per cui se z è uguale 30, andiamo in tavola periodica, e individuiamo l'elemento che ha un numero atomico, 30, ed è lo zinco. Ci sono tanti isotopi dello zinco, il isotopo in questione quindi è zinco 70, zinco con numero di massa 70, è un isotopo. Eccolo qua. B, 9 con numero di massa 19. Andiamo a cercare l'elemento con numero atomico 9 ed è il fluoro. F, 19. Floro, numero di massa 19, numero atomico 9. Disegniamo il simbolo del C, 51, 122. Andiamo a cercare il numero 48, 49, 50, 51 e l'antimonio. Sb, 51 in basso a sinistra, 122 in alto a sinistra, che è il numero di massa somma del numero di neutroni. C, D, 35 e 80. Qual è l'elemento numero 35, 30, 31, 32, 34, 35 e il bromo. Quindi si tratterà di Br, con 35 numero atomico, 80 numero di massa. L'ultimo è 19, 40. Allora, a 19 come numero atomico, eccolo qui è il potassio. K, 19, 40. Ecco scritti i simboli di questi isotopi.